buongiorno luca eccoci finalmente insieme è difficile beccati perché se la persona più viaggiatrice che conosca probabilmente un po mi do da fare dai con 153 paesi visitati un pochino un pochino mi muovo diciamo mamma mia allora buongiorno a tutti vi presento luca bracali un amico nonché collega soprattutto di video ma in realtà lui ha una carriera molto più lunga della mia e anche più anni e diciamolo perché sembriamo coetane diciamo la verità che io quasi 60 anni me ne mancano due e sono nonno due volte per cui insomma c'è una bella differenza fra mente che se questo vi dimostra mi dimostra come i viaggi tengono giovani perché guarda sinceramente allora io luca ci siamo incontrati qualche settimana fa qualche giorno fa sul degli studi del chilimanjaro abbiamo deciso facciamo una chiacchierata con per parlare un po delle nostre carriere soprattutto perché io sono sicuro che la sua storia sia molto molto di ispirazione per tutti tutti gli studenti della travel free school ma in generale per chiunque si occupi di viaggi di produzione contenuti chiami la foto chiami fotografia in generale ma anche video e i droni di cui tu sei un maestro e per cui io ti rubo questa ora preziosissima nel tuo tempo per farti fatti un po di domande che che sono sicuro averlo seguite con la con bocca aperta da tutti da tutti quelli che vedranno questo video quindi grazie per il secondo ma figurati grazie a te ludo per l'invito perché insomma abbiamo molte cose in comune e soprattutto però spero di intrattenere di interessare i nostri ascoltatori insomma con quello che ci racconteremo ma guarda interessare scusate io io metto in monitor già vi faccio vedere questa schermata giusto per darvi un'idea cioè se uno cerca luca bracani su google questi sono i primi risultati nelle immagini questi sono i risultati che trova capisci che come fai a dire che come vai come fai ad aver paura di non essere interessante dimmelo un po e te lo dico io perché non do mai niente 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 per scontato io ma veramente anche quando parto per un viaggio metto sempre in dubbio la possibilità che riesca a fare delle belle foto oppure sono 35 anni che le scatto ho prodotto centinaia migliaia di servizi però io non do mai niente per scontato nonostante insomma un'esperienza lunga la vita bravo questo credo che sia il trucco principale di chiunque faccia questo lavoro non dare mai niente per scontato anzi le poche volte che uno dà per scontato qualcosa solitamente si trova in difficoltà per quanto mi riguarda poi non so se per te così giustissimo giustissimo senti io ho fatto una introduzione molto breve semplicemente perché chi ci guarda non lo sa ma è caduta la linea quattro volte abbiamo stiamo provando a registrare questo video per la quarta volta non voglio portarti da troppo tempo però documentarista fotografo e viaggiatore per cui la prima domanda che ti voglio fare come iniziata la tua carriera come come iniziato a fare questo lavoro che poi è un lavoro forse di fotografo se non ho capito male in origine di origine fotografo e giornalista perché alla fine come fotografi non siamo tutelati non esiste un albo di fotografi esiste un albo di giornalisti quindi sono diventato giornalista e avevo ben tre ad italiano però ho imparato a coniugare perfettamente ogni verbo e congiuntivi sfido in questa intervista di cadere in un errore vedrai che è impossibile per cui con leggi i miei ti prego perché invece io ne faccio tantissimi credo non ci credo comunque il nostro grande maestro e seggio lesinski di chilimanjaro il capo autore quindi è lui è colui che è super partes e che veramente può permettersi di mettere penna ovunque noi scriviamo e sappiamo quanto sia pignolo bene la mia iniziata ormai nell 85 quindi insomma parliamo è di 28 anni fa io sono nato nell'84 quindi 30 anni pensa pensa te ecco guarda guarda l'inferenza cioè tu praticamente nascevi iniziava a lavorare una roba del genere ecco quindi quindi avevo praticamente questa passione per la fotografia insegnata mi trasmessa mi da un mio super mentore un professore in grado di insegnare 52 materie tal Cornelio Bisello che aveva una mente che non sta nella stanza del CERN ecco quindi non riusciva a entrare il suo cervello nel CERN in quanto veramente sapeva tutto di tutto fra cui anche fotografia mi ha trasmesso questa passione ma la mia passione per la fotografia era dirottata verso le le moto le moto io volevo fotografare grandi campioni di di moto velocità moto gp il Valentino Rossi dell'epoca insomma ancora prima si parla di Freddy Spencer quindi mi dissero beh visto che hai tre a italiano potresti iniziare con la fotografia e di sì beh può essere un'ottima idea per cui iniziai a fare il fotografo nelle gare prima di cross provinciale poi a livello regionale poi a livello nazionale a livello internazionale passai alla al moto mondiale quindi finalmente a ciò che volevo saltai infine alla formula 1 quindi insomma facendo facendo anche dei grandi scoop insomma l'ultimo è stato su Michael Schumacher tra le altre cose quindi insomma abituato a fotografare mi ricordo Ayrton Senna con il 500 mm moltiplicato a mano libera quando dovevi ecco mettere a fuoco avevi la scritta Banco National sul casco questo ti passava a 320 all'ora e ti avevi una profondità di campo di tre centimetri per fare lo scopo e non c'era il digitale quindi lì o eri bravo o eri fuori non c'erano grossi vedi mezzo quindi ho cominciato la carriera in questa maniera poi è stato un amico mio che mi ha detto ma visto che collabori con una rivista auto ma perché non ci facciamo dare un'automobile e andiamo in giro per l'Europa e raccontiamo la storia del viaggio io chiesi al direttore no se potessi avere lo spazio sulla sua rivista e chiedere un'auto e il direttore all'epoca Diego Ermo mi disse beh Luca dice se fai le foto come tu sai fare why not chiamai subito la Toyota e disse che aveva uno spazio di 6 8 pagine su auto se potevo avere appunto una Toyota in prova e mi dietro questa vettura mi feci in un mese praticamente 15 mila chilometri e 15 paesi feci il periplo dell'Europa e arrivai persino alle isole Svalbard lì ci arrivai era parliamo del del 91 92 quindi insomma le Svalbard e quell'epoca non era proprio selvaggia eh sì non c'erano strutture non c'era niente quindi da lì partì questo grande reportage eh fotografico testo foto su più riviste quindi da lì è iniziata la mia carriera eh di eh fotografo viaggiatore ho cominciato man mano all'abbandonare le auto e le moto e mi sono dedicato sempre più al viaggio dopodiché poi nel 2006 invece ho incontrato nel 2004 sono andato in Antartide a cominciare a pensare un po' ai problemi climatici e a studiare il buco dell'ozono andare a capire un po' meglio dagli scienziati cosa stesse accadendo dal 2006 mi sono dedicato invece all'Artico ho fatto 50 spedizioni in Artico eh fotografando documentando tutto tutto l'Artico raggiungendo il polonor geografico a piedi. Ma dire lo dici come se fosse ma sì ho fatto 50 spedizioni nell'Artico sono andato in Antartide oh sì sono andato in moto alle Svalbard ragazzi. Sì è vero ma per te mi sembra una cosa abbastanza abbastanza naturale sì in effetti se ci rifletto se mi fermo indietro e guardo il mio passato in effetti un po' mi stupisco anch'io però lo racconto così perché perché è nato tutto tutto così per caso cioè ho detto anche la spedizione al polo nord è stata un qualcosa di incredibile di indescrivibile cioè mi avevano chiesto 27.000 euro per farla 20 più 5.000 di spese io non avevo sti soldi avevo solo 6-7.000 euro di sponsor questi mi richiamano tre giorni prima della spedizione mi dicono vuoi aggregarti alla spedizione? E dici ma è parte fra tre giorni? Dici sì però te la diamo alla cifra che tu volevi e dici va bene. Quando arriviamo lassù a Longyearbien e cominciarono a chiedere quanto vi siete allenati per questa spedizione? Chi? Io un anno intero ho corso montagna, ho progressato fiumi, laghi, io sei mesi ho fatto le spiagge, io ho corso per tre mesi con il copertone di un camion dietro e tu quanto hai fatto? Ti ho tre giorni per chiudere le varie e arrivare da voi. Di cui due sedute in aereo. Per cui capito anche quella è stata una cosa veramente al limite dell'impossibile non la rifarei perché è stata la cosa più bestiale della mia vita però comunque insomma ecco. Forse ti faccio perdere il filo quindi scusami ma ne approfitto per farti una domanda che secondo me è importante perché diciamo tu hai iniziato grazie a questo gancio, questo lavoro che tu avevi nella rivista e quindi in qualche modo tu avevi qualcosa da offrire allo sponsor perché tu andavi dallo sponsor e dicevi guarda io ho otto pagine che ti posso offrire, ti posso offrire visibilità che è chiaramente la cosa più appetibile che c'è in assoluto per uno sponsor. Quando ti trovi ai giorni nostri è un po' più complessa questa situazione perché diciamo i freelance che vogliono fare documentaristi come noi spesso si trovano a non sapere cosa offrire in cambio allo sponsor, cioè convincere qualcuno a pagarti un viaggio anche solo banalmente se non gli dai qualcosa in cambio è molto complicato. Adesso non so è un po' a brucia a pelo ma se tu dovessi suggerire qualche cosa, secondo te è un ragazzo di 25 anni che vuole fare un viaggio in Argentina che cosa si deve inventare oggi per potercela fare? Perché io ho fatto esattamente come te, non sono giornalista ma il primo viaggio che ho fatto era una fase in cui era più facile trovare copertura mediatica e ottenere visibilità rispetto ad adesso secondo me, dove è molto complesso. Allora, indubbiamente il segreto per fare il fotografo, il videomaker, il filmmaker, il documentarista, quindi girare il mondo che è il mestiere più bello che esista sulla faccia della terra, io non lo cambierei per la posizione di direttore generale della banca europea, beh lo farei per un anno giusto per un discorso, ma poi mollerei subito diciamo la poltrona, è il nostro. Però la difficoltà qual è? È un discorso di remunerazione, è un lavoro troppo bello per essere pagato bene. Allora, il primo segreto qual è intanto? È viaggiare a costo zero. bisogna mettersi in testa che per riuscire a mettersi in tasca qualche soldarello bisogna spendere zero nel viaggio. Questa è la prima regola. Se non parti da questa, devi avere un papà che abbia un cognome importante, insomma. Indubbiamente Pier Silvio non avrebbe problemi, diciamo, a fare il nostro mestiere, capito? Però non tutti hanno questa fortuna. Di conseguenza parliamo di persone normali, umili come siamo noi. Il modo in cui ci si approccia è proprio quello di cercare uno sponsor. E lo sponsor quale può essere? Il più difficile è quello che ti dia soldi, perché avere la moneta in contanti, il cash, il soldo, la fattura e quindi il tuo condizione in banca, è difficile. Il primo step è, diciamo, rifarsi con un'agenzia di viaggio. Un'agenzia di viaggio o un tour operator o una compagnia aerea, ma molto meglio i primi due, sono coloro ai quali uno può proporgli una merce di scambio. Ovvero, uno si presenta dicendo io andrò a fare questo viaggio. Magari per un tuo catalogo avresti bisogno di un po' di copertura mediatica, fotografie, servizi, un po' di blogging, un po' di video da darti. Tutto ciò che vuoi ti verrà dato in copyright free, ne potrai fare quel che ne vuoi. E io però in cambio ti chiedo la copertura semplicemente del viaggio per quanto riguardano i costi vivi, i costi puri. Ecco, in questa maniera ho notato che uffici del turismo, che questo è uno step successivo, ma comunque anche agenzie locali o tour operator medi possono sicuramente accettare. E quindi già così viaggi a costo zero e ti inizi a fare il nome. Quando ti inizi a fare il tuo nome, è il modo giusto per poter contattare qualche rivista, qualche magazine, qualche quotidiano locale o qualche radio e raccontare la tua avventura. Ma al di là di tutto, alla base di tutto, cosa deve esserci? Un progetto. Non puoi dire vado a fare un viaggio per cosa? Perché vado a fare delle foto, delle belle foto, vado a fare un gran bel video fighissimo. No, non serve più. Serviva poco anche vent'anni fa, ma adesso serve ancora di meno. Quindi ci vuole comunque un progetto, un progetto che racconti una storia. Questo piace, questo sicuramente piace e i media ti daranno un certo riscontro da un punto di vista di immagini. In questo ritorno tu comunque citerai lo sponsor, citerai colui che ti ha fatto fare il viaggio ed ecco che crei un loop. Quindi a colui che ti manda gratis, che ti sponsorizza il viaggio, non solo gli dai le foto, il video, testi, tutto ciò che vuoi, ma addirittura lo citi su altre fonti mediatiche e gli rendi pubblicità in maniera diretta. Poi se uno è anche magari bravo nel fare una comunicazione social, quindi ha dei follower, è chiaro che con i social oggi si fa tanto, però ci vuole follower attivi. Certo, con mille follower si va da poche parti, bisogna avere un numero un pochino più nutrito, consistente e a quel punto lì, live, story, quanto più ne vuoi di idee, quante più ne metti dentro, si riesce a creare veramente una movimentazione accattivante, creare una storia live e a tutto vantaggio dello sponsor e di chi ti ha dato fiducia. Perfetto, anche perché questo concetto di avere un progetto, avere una storia, a parte che mi sembrava di riascoltarmi, io questa cosa la dico tantissimo a tutte le persone che mi chiedono, mi fanno domande, quindi mi fa piacere sentirla dire da qualcuno che ha un po' più di anni di esperienza ovviamente di me, ma è anche l'unico modo per ottenere quella famosa visibilità mediatica che interessa i giornali. I giornali non interessa più pubblicare dieci belle fotografie di un posto, deve esserci una connessione, un filone, una bella narrazione di un progetto appunto. Per cui assolutamente condivido in pieno e spero che tutti riescano a recepire da questo messaggio, perché guarda che sembra una cosa facile forse tra noi che siamo anche un po' professionisti, cioè che lavoriamo su questo tutto il giorno, tutti i giorni, ma per molti ragazzi che mi scrivono la sfida più grande in assoluto è proprio quella di trovare una storia per i viaggi che vogliono fare. Soprattutto trovare una storia originale, perché trovare storie e di storie ce ne quante ne vogliamo da tutte le parti, trovare una storia originale che attiri attenzione è forse la sfida più grande del nostro lavoro per tutti. Assolutamente, assolutamente. E poi secondo me, se posso integrare io la tua risposta perché ti metto le parole in bocca ma poi proseguirai, ovviamente secondo me devi essere, come faccio io, ma bravo anche a diversificare. Io diversifico molto, cioè non faccio solo un lavoro per fare un filmato, ti faccio un esempio. Solitamente quel lavoro lì mi porta a casa il filmato, poi mi porta a casa, nel tuo caso probabilmente, le fotografie per farci un libro, nel mio caso invece qualcosa magari per uno sponsor che mi ha aiutato a coprire delle spese. Io ci faccio anche dei corsi online per cui magari mi porto a casa delle riprese utili per i miei corsi. Cioè bisogna essere bravi a diversificare, quindi da un unico progetto come un viaggio, portare a casa più materiale possibile, utile a diverse cose. Se non sbaglio nel tuo caso tu sei anche una persona che ha pubblicato una valanga di libri tutti strepitosi tra l'altro, cioè non solo, c'è proprio dei libri fotografici che presumo ci siano stati fatti in qualche caso, anche grazie all'aiuto di qualche sponsor. Presumi bene, presumi bene, detto bene. Innanzitutto si bisogna essere multitasking, quindi anch'io quando faccio un viaggio, innanzitutto sono viaggi in cui sono da solo con un mio collaboratore, molto spesso invece faccio viaggi fotografici nei quali porto persone con me. Quindi comunque creo, diciamo, dei contenuti fotografici utili ai miei libri e alle mie mostre. E poi filmo in contemporanea in modo tale da produrre contenuti proprio per i documentari Rai a chi li mangiano. E quindi questo è già un altro lavoro, un altro mestiere. Per quanto riguarda proprio i libri, i libri è la cosa più difficile da ottenere veramente, come le mostre un po' del resto. Nel senso, se uno vuole guadagnare, altrimenti vai su Blurb, ah vabbè, c'è, c'è, c'è. Il tuo libro paghi e il libro ce l'hai tu, tua mamma, tua babbo, insomma, e la tua fidanzata, perché glieli compri tu, glieli regali e sei a posto. Ma non può dire di essere un autore di libri. La soddisfazione è come me l'altro giorno, mi hanno mandato una foto, dice guarda un po', dice ero alla mostra di Steve McCary e accanto ai suoi libri guarda cosa ho trovato. E c'era Pianeta Terra, un mondo da salvare a mia firma. Ecco, insomma, quindi lì cominci a pensare, insomma, di essere un autore che ha fatto qualcosetta nella vita. Di libri ne ho pubblicati 20. E di 20, diciamo, 14, 13 sono stati stampati in offset, quindi non in digitale. Gli altri sono in digitale. Quelli che ho stampato in offset sono libri che hanno avuto una tiratura di almeno 2000 copie, ma lì ci vuole lo sponsor dietro. E il segreto proprio qual è? Il segreto è quello di riuscire a coinvolgere uno sponsor in modo tale da riuscire ad avere i soldi ancora prima che la pubblicazione sia avvenuta. Oppure a pubblicazione avvenuta. Perché se uno aspetta di avere la percentuale che può andare da un 5-10% sulle vendite, a meno che tu non scriva Harry Potter 2, la vendetta, allora lì sicuramente non ha i soldi, con i libri fotografici, fidati, anche McCary ne vende 600. 600 libri vende di media McCary. Quindi non fai niente, non ci guadagni niente. Invece con uno sponsor, e io ho avuto banche, ho avuto fondazioni, ho avuto grandi compagnie di energia elettrica, ho avuto grandissimi produttori di rose, grandissimi vivaisti, ho scelto i migliori nel loro settore, e questi ovviamente oltre a pagare il libro Fior di Soldi, pagano anche te, giustamente. Pagano anche te, è il tuo lavoro, quindi sei assicurato. E ecco, anche qui l'annata ricerca dello sponsor è quella veramente che dà frutto, proprio cash flow, al tuo lavoro, altrimenti restano solo parole. Perché poi lo sponsor, quel libro, immagino lo regali ai suoi clienti migliori, magari, o lo distribui, o lo vende in negozio, non lo so cosa... Ci sono due vie. Lo vende o lo vende, perché quando fanno fornitura, appunto, che ne so, di rose, assieme alle rose, magari vogliono sapere la storia delle rose, e la racconta nel mio libro, oppure ai top clients viene regalato, appunto, un libro, proprio perché hanno comperato magari decine di migliaia di euro di piante, di fiori, di vivaisti. Nel caso delle banche, invece, vengono regalati, semplicemente regalati. Abbiamo fatto, mi ricordo, anche un evento con Licia Colò, all'epoca, si parla del 2016, in un teatro, dove presenta questo libro, Pianeta Terra, un mondo da salvare, la fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia, che investì veramente un sacco di soldi, regalò tutte le copie, 2.000 copie stampate, le regalò, semplicemente chiedendo una piccola offerta, per chi volesse farla, da dare a un'associazione a sostegno, non mi ricordo, un'associazione di Pistoia, ecco, comunque a sostegno delle donne, mi sembra fosse, e poi coinvolgemmo Green Apes, questi scimmioni verdi, è un'associazione di Firenze, che, insomma, anche loro movimentano l'ambiente in base alle buone azioni che fai, insomma, ti danno dei bonus, dei punti, dei premi, eccetera, quindi, insomma, lo sponsor è felice quando può donare, ma però deve avere, appunto, uno sponsor con le spalle larghe, le fondazioni, ad esempio, sono le migliori in assoluto, perché? Perché ogni anno hanno un budget stabilito, e si parla di centinaia di migliaia di euro, da spendere, indistintamente, questi debbono spendere, mentre le banche, ultimamente hanno cominciato a tirare un po' i remi in barca, le fondazioni no, le fondazioni, proprio per statuto loro, me l'ha spiegato il presidente, loro ogni anno così fanno, ma hanno decine e decine e decine di progetti, il mio era il novantesimo progetto, 89 sono stati bocciati, è passato il mio, quindi, ecco. Vedi che dai, questo è essere documentaristi a tutto tonno, proprio, perché questo è un lavoro da documentarista, ma allo stesso tempo integrato da qualcuno che ha studiato marketing, comunicazione, un po' di commerciale, no, quindi tanto, è veramente molto utile sentire questi consigli, sono convinto che sia utile sentirli. Ti ho interrotto prima, mentre raccontavi la tua storia, mi dispiace per quello, sei riarrivato al 2014, se non sbaglio, quando forse iniziavi a destreggiare il drone, o a iniziare a fare i viaggi anche facendo video. No, diciamo, diciamo, la mia carriera è stata, fino al 2011, puramente come fotografo, e basta. Dal 2011, ho avuto la fortuna di essere chiamato, da una persona, grazie a quel mio primo viaggio, che feci con la Toyota in giro per il mondo, ecco, quindi, pensate, il viaggio fu nel 91, nel 2011, 20 anni dopo, sono stato chiamato da uno dei massimi dirigenti della RAI, che adesso non c'è più, appunto, ma non perché è passata vita migliore, perché ha cambiato TV, mi chiamò e mi disse, io ricordo Luca, che tu eri molto bravo come colladatore, come tester, come driver, eccetera, eccetera, adesso ho in mano una trasmissione, si chiama, ne ho 20, 30 di trasmissione in mano, aveva anche, mi ricordo, mi ricordo, Miss Italia, aveva pure, Festival di Sanremo, ma fra le quali anche, Easy Driver, quella trasmissione, le quali due vetture andavano in giro per l'Italia, la raccontavano, e una moto, faceva più o meno altrettanto, in un servizio più breve, quindi, lì fui chiamato a fare il regista, il regista di servizio, non di puntata, e dove raccontavo, appunto, una parte d'Italia, e la moto soprattutto, in ambientata, lì facevo il regista, imparavo a fare il regista, e il tester, in contemporanea praticamente, quindi, gestivo le truppe RAI, le truppe ufficiali RAI, dove appunto mi riprendevano, e dove facevo riprendere, quello che io ritenevo opportuno, fosse interessante, scrivevo il testo, e così per RAI 1, per Easy Driver, ho prodotto 220 servizi, come regista, 220, 220, ecco, poi da lì sono passato, nel 2008, avevo fatto 12 documentari, per Sky, sull'Artico, 12 documentari da mezz'ora, cada uno, e gli ultimi due da un'ora, e poi avevo fatto anche il conduttore, per Sky, poi sono passato invece, a RAI 2, a RAI 2, a TG2, anche no, a uno mattina, ho fatto 10 documentari, per uno mattina, a TG2, con TG2 storie, e poi, diciamo, sono migrato a Chilimangiaro, ma la cosa particolare, qual è stata, appunto, per Chilimangiaro, è stata che io, nel 2012, ho iniziato ad acquistare, il mio primo drone, nel 2012, quindi volavo con un drone, che non aveva, il ritorno, video, quindi tu riprendevi a caso, tu guidavi sto drone, ogni tanto cadeva, perché aveva dei bug pazzeschi, era il Phantom, questo ogni tanto prendeva, e cadeva, e non sapevi ciò che riprendevi, quindi, poi pian piano, mi sono sempre più specializzato, con il drone, e da lì, diciamo, facendo, quindi, il regista, il dronista, mi capitò di fare un viaggio, nel 2018, all'Isola Svalbard, e ci fu, una, diciamo, diatriba, con il mio filmmaker, quello con il quale andavo, d'accordissimo, eravamo veramente fratelli, però, c'è un qualcosa, che non, non sono bene, fra noi due, e quindi, io dovetti andare all'Isola Svalbard, senza, senza di lui, e, ci sei andato da solo, senza un'alternativa, e non avevo alternativa, perché, e praticamente, non avevo nessun altro, e dici, come faccio ora, a fare un documentario, però, dissi, qui bisogna, mi rimbocchi le maniche, sono comunque fotografo, sono dronista, faccio il regista per Rai 1, oramai, era il 2018, da sette anni, vediamo se faccio anche il videomaker, a quel punto lì, cominciai a fare le riprese video, proprio nel 2018, con la stessa fotocamera, con la quale scattavo, appunto, fotografie, usando le GoPro, che comunque ero già molto avanti, e venne fuori un documentario, che passò, prima su Rai 1, come Easy Driver, due minuti di servizio, e poi è andato anche su Chili Mangiaro, ed è un documentario, che hanno messo proprio, una voce oltretutto, molto particolare, molto bella, perché è piaciuto l'enfasi, con la quale ho raccontato, ho raccontato la storia, e quindi, insomma, diciamo, il mio primo debutto, come documentarista full, è stato nel 2018, e mi ha dato una grande soddisfazione, perché comunque, ho scritto il pezzo, ho girato tutte e tutte e tutte le immagini, con l'action cam, con la camera fissa, e con il drone, e insomma, a vedere il risultato, sono le più grandi soddisfazioni, poi quelle, quelle che uno riesce a portare a casa, un prodotto, praticamente da solo, che riesce a creare dopo un'emergenza, eccetera, eccetera, non so, se poi ha successo, è comunque una bella soddisfazione, quindi, si sente che te lo ricordi ancora, come qualcosa che ti è piaciuto, ti è piaciuto fare, sì, ma soprattutto, la fatica che ho, per lì la paura, l'anima, talvolta è proprio la reazione che ha il tuo corpo, dice, e ora cosa faccio? Quando sei nel momento del bisogno, tiri fuori tutte le tue energie, questo vorrei dire, ai giovani che magari ci stanno ascoltando adesso, di non abbattersi mai, di tirar fuori la grinta, di tirar fuori le unghie, proprio nel momento, in cui uno si sente più debole, è lì che si fa la differenza. È bello, bellissimo consiglio, ma proprio in quel momento lì, hai capito che ti piaceva il drone veramente, perché poi, nel 2012, veramente, i droni, come dici tu, non avevano, erano ancora molto complicati, quindi, nel senso, io all'inizio, quando ho usato il Phantom 4, il primo Phantom 4 che usciva della DJI, che non aveva niente, io all'inizio, sì, mi piaceva, ma mi era detta sinceramente, mi incazzavo anche come una biscia, ogni 10 secondi, perché perdevo il controllo, le riprese venivano poco stabili, non mi piaceva, poi ogni tanto portavo a casa qualche, quindi, bisognava avere una grande pazienza all'epoca, per iniziare ad amare bene quello strumento, però tu ti sei innamorato, e adesso lo dico, non ti faccio arruzzire, ma, in Italia, si può avere assoluto, con i droni. No, ora, questa, questa mi sembra, mi sembra grossa. Sì, sui droni, i grafici, i grafici, la dico, se no, non c'è la dico, se no, non c'è la dico, ma è stato uno dei pochi, adattare, l'evoluzione, 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 riscando di sondere, anche, l'evoluzione, la sicurezza. Sì, quello è vero, ho fatto cose che sono, indubbiamente, uniche al mondo, uniche proprio al mondo, sì, ma anche ho documentato, per Rai, le quattro città in lockdown, Roma, Milano, Venezia e Firenze, dove sono stato, proprio l'unico, in assoluto al mondo, a fare queste riprese, delle città completamente vuote, deserte, dall'alto, oltre, appunto, a raccontarci quattro documentari, ma anche farci quattro libri, oltretutto, quindi, poi ho volato sull'Etna, bruciandoci lo ring del drone, ma finendo su National Geographic, e poi ho volato dentro il vulcano Yasur, e Vanuatu, e anche lì, non ti dico, quando è esploso il vulcano, io avevo il drone, e ho visto i lapilli, schizzare, passare attorno al drone, ho detto, vai, drone è andato, meno male, tanto c'ho quello di riserva, andrò con quello, e invece lì ho riportato un'altra immagine grandiosa, che è andata su Kilimanjaro, per non parlare poi dell'ultimo servizio, che si è meritato, doppia pagina su The Guardian, e pagina su Times, telegiornale TG1, telegiornale in Norvegia, proprio per il sorvolo del vulcano Fagradalsfjall, in Islanda, mi ero preparato benissimo, ci ho fatto fuori praticamente 16 batterie, non so le ore che gli ho dedicato, ci ho fuso i sensori del drone, ma ho tirato qualcosa veramente di unico, però lì è anche pelo sullo stomaco, non solo capacità, è saper andare oltre i limiti, cioè i limiti sono questi, quelli imposti, e te devi andare oltre. Infatti, guarda, quando io ti dicevo che sei il più bravo con i droni è per quello che, diciamo, a fare belle immagini con i droni, sono brave tantissime persone, ovviamente, ma riuscire ad arrivare al limite, o superarlo, sono in pochissimi. Io ho un consiglio che ogni tanto dico a chi mi segue, di non aver paura di rompere l'attrezzatura, no? È vero che è una cosa molto azzardata, perché ovviamente l'attrezzatura ha un costo, anche se ormai i costi sono molto più bassi di quelli di qualche anno fa, comunque ha un costo, romperla ti dispiacerebbe, però in effetti senti nella mentalità che il contenuto è più importante dell'attrezzatura e se non ti fa paura romperla, perché sai che se non la rompi porti a casa il contenuto più figo del mondo, molto spesso quel contenuto ha un valore che è intrinseco dentro e che quindi potrai, insomma, potrai più facilmente venderlo. E il fatto che tu sia riuscito a vendere così bene queste clip girate in Islanda, dimostra che le stesse identiche clip potrebbero farle anche i giovani di adesso, semplicemente bisogna riuscire ad azzardarsi, azzardare qualcosa di più e non devono pensare che magari Luca ce l'ha fatta solo perché magari sei più esperto, sei più anziano, sei più hai più contatti, non è vero. Ce l'hai fatta perché hai azzardato secondo me un po' di più e i giornali hanno chiamato te, probabilmente i giornali, se non mi ricordo male, quando me ne hai raccontato il giornale che te l'ha preso non ti conosceva neanche. Cioè ti hanno contattato perché l'hanno vista su LinkedIn. Bravo, mi hanno... No, allora su LinkedIn le hanno viste e mi hanno proposto un lavoro a tempo pieno come direttore della fotografia. Ok, su LinkedIn ho provato un lavoro, io mi sono mai stato assunto in vita mia e mi hanno scritto, grazie a quelle immagini, di fare il direttore della fotografia per una grossa agenzia a Firenze, subito come lavoro. Invece no, le altre testate, quindi The Guardian, Times, eccetera, mi hanno trovato, grazie a una grande agenzia inglese che distribuisce e vende tutto il mondo, poi certe mie immagini sono andate, non quelle del drone, ma altre che scattate in Madagascar, sono andate in Cina, sul New York Post, New York Times, hanno fatto il giro del mondo, grazie a questa agenzia che mi segue su Facebook, vedendo le foto particolari su Facebook, mi ha contattato, mi ha scritto, mi ha proposto un contratto e mi ha angaggiato. Così si fa. Ecco, semplicemente la potenza dei social. Io non so chi fossero, non so chi siano, cioè le ho conosciuti semplicemente dopo. Però devi avere cose veramente particolari, per esempio gli è piaciuto moltissimo un servizio mio sugli orsi polari, ma gli orsi polari io ce l'ho in tutte le salse, sono 15 anni che fotografo orsi polari, però guarda caso, gli sono piaciute solamente tre foto, da dire wow. C'era un orso polare praticamente messo col culetto all'insù che scivolavano sulla banchisa ghiacciata, una foto praticamente particolare, unica, uno scatto che è impossibile da fare, ma anch'io in 15 anni non ho mai fatto uno scatto del genere. Quindi vanno alla ricerca di questi dettagli, del lemure che mi si è buttato giù proprio verso di me. È bellissima quella foto. Ma lì c'avevo la banana, questo lo rivelo in cucco, avevo la banana messa attaccata alla macchina fotografica e quindi questo mi si è buttato giù per prendere, però si vede questo lemure, occhi aperti, hanno questi occhioni così con le mani spalancate, pronto a carpirmi. Anche questa foto ha fatto il giro del mondo, quindi si parla di giornali europei, americani, cinesi, eccetera, eccetera. Sì, però è bellissimo questo concetto importante che si parte dal contenuto, il contenuto che ti dà il merito, che ti dà tutti i meriti, per cui è bello essere così insistenti a produrre contenuto perché poi è quello che effettivamente ti fa conoscere, ti fa lavorare. Ma infatti, se non sbaglio, grazie anche a questa continua condivisione di contenuto hai iniziato poi a organizzare i viaggi per fotografi che vogliono capire come si fa la foto all'emure in Madagascar. Porti la gente in giro e li fai vedere che guarda che questo è un trucco che si può fare. E da lì è partito poi questa bella attività di accompagnare i viaggi, prima o poi tra l'altro ti anticipo, ti tocca accompagnare pure a me perché non vedo l'ora di venire a fare un po' di riprese insieme. Però fai dei viaggi che sono strepitoni. Ma sarebbe un onore, un piacere. Pensa che ne ho fatti, è dal 2009 che io faccio praticamente viaggi fotografici e porto in giro persone in tutto il mondo. Ma persone di ogni genere, natura, cioè parliamo di ventenni e parliamo di 85 anni. Ho portato una volta a fare gli orsi polari due fratelli, 80 e 82 anni. Camminavano a malapena, però sul ghiaccio, sono minuti che mi hanno seguito, gli ho fatto fotografare gli orsi polari e ho fatto poi invece un altro viaggio piangere una giovane ragazza perché gli ho mostrato la bellezza dell'aurora boreale, un'altra mia specializzazione, che è fotografo dal 1999. Quindi io sono 24 anni, mia figlia piccola aveva due mesi e io già partì per scattare la prima aurora boreale in Alaska. Quindi i viaggi fotografici sono ispirazionali, motivazionali, sono viaggi nei quali uno veramente cresce e impara il modo di viaggiare e il modo di fotografare. Quello che invece diciamo non faccio, non faccio perché chiaramente non posso far tutto, è quello di insegnare a fare il videomaker. E questo, vedi, invece sarebbe proprio un gancio perfetto, un assist fantastico, perché se facessimo un viaggio assieme, ecco, io potrei insegnare a te la fotografia e chi meglio di te potrebbe insegnare l'arte del videomaking. Why not? Sarebbe molto molto divertente, ci lavoriamo, dai ragioniamoci. Senti, ma in tutti questi anni, adesso ti faccio forse questa ultima domanda poi ti lascio andare dalla tua nipotina, ma... No, nipotino, mi è nato il nipotino. Nipotino c'è già, mi arriverà adesso il nipotino dopo che ha fatto dieci giorni in incubatrice e arriva a casa, per cui... Quindi è un momento importante nella tua vita che devi essere concentrato, non devi parlare di fotografia e di aurore boreali. Beh, però per sentire, mi sono già messo pronto con le mie varie attrezzature perché comunque devo riprendere e fotografare in contemporanea. Giusto. Devo fare la mia persona, per me è un lavoro, capito? Quindi, cioè, il nipotino va preso nell'atto, perché è un attimo irripetibile anche quello, no? Giusto. Negli ultimi anni, diciamo, negli ultimi dieci anni, tu hai trovato un modo... Hai trovato che il modo di viaggiare si è cambiato? Cioè, se ti mancano i viaggi, come dire, ti manca un viaggio vero? Ti rispondo io, poi così ti faccio capire che cosa intendo, perché io, per esempio, quando mi chiedono qual è il mio viaggio preferito, solitamente rispondo che il mio viaggio preferito è quello in cui ho faticato di più, che è stato il viaggio in Africa nel 2009, ho fatto un viaggio in Africa con una vecchia panda dell'87 e in effetti è un vero viaggio, cioè non c'era niente di organizzato, dormivi per strada, insomma, abbiamo attraversato tutta l'Africa occidentale in un momento in cui si poteva fare, ma molto, molto avventuroso. È un'avventura e, non so come dirti, non c'erano ancora i cellulari, i cellulari perlomeno prendevano molto male, per cui avevamo un telefono satellitare condiviso in tre amici, lo usavamo una volta al giorno per un sms, solo per dire che eravamo vivi. Questa cosa qui mi manca molto, seppur il viaggio sia stato molto stancante e faticoso, non è che proprio ci siano stati tanti momenti, ci sono stati anche dei momenti non divertenti, perché quando fatichi troppo, poi anche se sei in viaggio, non è che sei così piacevole, però quella sensazione di avventura vera, io è un po' che non riesco più a respirarla. Forse tu la respiro un po' di più perché vai nei posti freddi, quindi nei posti freddi si riesce a isolarsi di più, però mi chiedo, ti manca fare un viaggio difficile che non sia il viaggio al Polo Nord che ci hai raccontato prima, che non faresti mai più in vita tua? Eh no, quello veramente fatto una volta, fatto una volta per raccontare questa esperienza, documentarla, e poi va bene così, che resti nell'archivio del cuore. Sì, è una domanda interessante quella che hai fatto, è una domanda giusta, è una domanda vera. Il modo di viaggiare negli ultimi dieci anni non è cambiato, si è stravolto, si è stravolto. E dopo il Covid è cambiato ulteriormente, e naturalmente sempre in peggio. È vero che dieci, quindici, venti anni fa era più difficile perché dovevi trovare magari delle informazioni più saltuarie, comperandoti le immancabili Lonely Planet, o le Reuters, eccetera, quindi dovevi trovare informazioni in maniera più faticosa. Oggi, da una parte, è molto più semplice perché con Google trovi tutto ciò che vuoi, l'hai tutto a portata di mano, quindi ti puoi programmare il viaggio in tutta serenità, tranquillamente. Però è vero che si muovono milioni di persone in più e praticamente anche certe mete straordinarie, meravigliose, sognanti, oramai hanno perso tutto il loro fascino. Il primo esempio che mi viene da fare è la mia amata Islanda. Per me dei 153 paesi visitati è lo stato più bello. L'Islanda per me non ha uguali al mondo. Per la sua diversità. Tu ogni giorno puoi raccontare una barra due storie e ogni giorno sfogli un capitolo nuovo, diverso, totalmente diverso dal precedente. Ecco, oggi andare in Islanda significa andare in piazza Duomo a Milano, praticamente. È diventato un via vai di persone, un via vai di asiatici, che gli asiatici sono tanti, non per avercela con gli asiatici, ma sono veramente tanti numericamente, che poi ti ritrovi anche come numero a livello di presenza. E soprattutto anche il modo che hanno di approcciarsi al viaggio. Tu sei lì, tutto vestito in maniera tecnica, hai le tue attrezzature, quindi stai pensando a come fare, ma al di là che sia un professionista o meno. Ma vedo molte persone che comunque così sono. Ti vedi invece l'asiatico, o l'asiatica, spesso ai cinesi, con scarpa a tacco alto, sulla neve. A me già lì mi viene un po' da inorridire. Vestito con appunto dolce gabbana, perché se non hai dolce gabbana non sei fashion, e naturalmente col selfie stick che ti fai la foto e prendi metà spazio all'interno delle grotte di ghiaccio. Quando sei lì tutto rastremato, tu con l'ottica super grandangolare per prenderti appunto l'effetto. è vero che ognuno diciamo ha diritto a viaggiare nella maniera in cui crede, però questo a me sembra proprio un voler mettersi in mostra, ma ne vedo tanti, ne vedo moltissimi, che proprio sembrano sulla passerella, sembro voler venire in Islanda per fare la passerella. E questo mi sembra di snaturare un po' la bellezza del viaggio, vedo proprio che viene a mancarti qualcosa. E allora cosa cerchi? Cerchi luoghi dove questa mercificazione del viaggio venga meno e devi andare in zone più estreme. Io sono tornato da un mese e mezzo dal Vietnam, ma anche il Vietnam adesso non è più il Vietnam di una volta, anche il Vietnam adesso ci trovi di tutto e di più. Madagascar, Madagascar luogo favoloso, ma anche il Madagascar è molto gettonato. Insomma, per fartela breve, luoghi dove ancora puoi fare dei viaggi veri sono la Mongolia, ma la Mongolia quella estrema, sui appunto Monti Altai, al confine fra Siberia, Cina, Kazakistan, dove sei con i cacciatori con le aquile e allora lì riesci a vedere zero turisti in dieci giorni. E quello è un successo per me pieno. Non vedi un turista. oppure ancora peggio andare a fotografare gli ultimi 200 uomini Renna al confine e ancora qui siamo ancora oltre fra Siberia e Mongolia e per raggiungervi pensa che ci ho impiegato a parte nove ore di jeep quattro ore e mezza di cavallo e per poco mi muore una persona perché è caduta da cavallo, ma cavallo facendo cavallo vero, cioè il fiume in piena attraversato, salite, discese, una roba veramente dura, 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 dormendo nei tipi, vivendo con loro, andando in bagno nel loro bagno che era una buca aperta di fronte a tutti in mezzo alla foresta dove passavano e mentre tu eri nella tua intimità questi ti salutavano tranquillamente. Oppure, oppure in Iranjaya, West Papua, dove ho incontrato l'ultimo dei cannibali. Ecco, la valle del Beliem oppure altre zone, altre aree, Rajampath, ecco, qui cominciamo ad essere in zone dove il turismo è veramente scarso, scarso, scarso e riesce ancora a respirarlo. Ad agosto andrò in Kazakistan e in Kyrgyzstan. Anche Kyrgyzstan mi sa tanto, l'area che farò io a 3000 metri di quota dove andremo appunto a incontrare le ultime tnie del Kyrgyzstan è un'altra zona secondo me affascinante con poco turismo che ti dà la vera scoperta del viaggio. Oppure la Puna Argentina che vedremo appunto in un'altra di Kilimanjaro ecco, anche lì onestamente non ho trovato nessuno. A Ushuaia alla fine del mondo sì, in Patagonia sì, in Tierra del Fuoco sì, ma nella Puna Argentina a 4700 metri di quota quando mi sono spinto nel deserto di Odiablo eravamo io il mio allievo e la guida tre persone. Bello, questo proprio fa capire a tutti che chi vuole fare contenuti unici deve spingersi oltre anche nella ricerca delle destinazioni. Devo essere sincero mi è venuta voglia di fare un documentario su di te adesso mi organizzo cerco di fare c'è ti do sei tu il mio prossimo protagonista la serie è già fatta praticamente. Ma lo fai che ti dico la verità in due persone me l'hanno già chiesto una filmmaker americana in due persone però secondo me innanzitutto per fare queste cose bisognerebbe avere pochi capelli o i capelli bianchi e il volto un po' con le rughe stile salgado perché comunque dai l'idea di persona vissuta e vedi me insomma è vero che dimostro meno ma è un'arma a doppio taglio uno che ti vede dice ma questo ma dove è stato sto che cosa ci vuole sai che io lavoro anche un po' nel mondo della fiction della pubblicità per cui se vuoi i capelli bianchi e i capelli e le rughe e le tassi delle tassi e magari potrebbe essere idea o magari invece fammi fare qualche altro viaggio che ho ancora qualche altro paese da raccontare secondo me ci vengono fuori storie anche il Mangistau mi ispira molto il Mangistau questa regione appunto del Kazakistan è un programma molto intrecciato ma è una zona fatta di Kenio anche lì devi dormire nelle yurte nelle tende ti svegli e sei solo non hai nessuno cioè hai praticamente vivi circondato dalla natura ma cosa c'è più bello di questo viver circondati dalla natura io questo è quello che cerco nei miei viaggi capito non hai mai e non hai mai paura di essere così isolato mai no per carità io casomai ho paura delle persone delle persone un po' paura ecco non della natura non della natura assolutamente assolutamente no è anche vero che nella mia vita sono scappato a due cariche di elefanti e a una di orso polare e mi sono trovato senza ossigeno a 23 metri con 5 squali per cui mi è andata anche bene e ringrazio Dio per questo però però capito ecco il trovarmi solo mi sono trovato solo nello stretto di Bering in mezzo a una bufera sì lì devo dire che è stata una delle poche volte che ho provato paura perché ero in mezzo ai flutti ghiacciati dello stretto di Bering qua c'era la Siberia il Kamchatka insomma le ultime tre pagine il Lidl Diomid e Big Diomid e dall'altra parte Wales in Alaska quindi ero in mezzo al niente con una bufera a 40 sotto zero visibilità zero con due motoslite ecco lì un pochino di paura devo dire che l'ho avuta e lì ho pensato che la natura forse esistesse invece poi in poi in poi insomma la natura mi ha voluto bene di nuovo si sono riequilibrate le sorti ho trovato la via di uscita e sono tornato è chiaramente è chiaramente un amore reciproco quello tra te e la natura e le dai le dai anche il giusto valore grazie alle tue fotografie e alle immagini sono anche ambasciatore a vita di Save the Planet per cui insomma e questo sicuramente per i miei contenuti per i cinque libri che ho scritto dei miei eventi dedicati alla terra per le mostre che ho fatto anche in Parlamento Europeo dove ho portato sempre avanti lo scioglimento di ghiaccio e il global warming collegati all'inquinamento dell'uomo perché la terra è vero che sta riscaldandosi e come ha fatto ciclicamente mille volte ma è anche vero che l'uomo adesso gli sta dando una grossa mano dal 1800 in poi quando siamo entrati in piena era industriale l'uomo specie dal 1960 70 80 poi in pieno consumismo eccetera bisogna dire che stiamo producendo anidride carbonica senza se e senza ma non c'è una ragione non c'è una regola e la terra si ribella i risultati li vediamo li vediamo tutti infatti guarda io in realtà non vedo l'ora di vedere i contenuti che farei nei prossimi mesi che produrrei nei prossimi mesi cosa suggerisco a chi si sta guardando di seguirti su Luca Bracali su LinkedIn su Facebook e su Instagram o hai un sito di riferimento ho un sito di riferimento per i miei workshop fotografici però soprattutto sono più attivo su Facebook dove rispondo personalmente a tutti di ciò di ciò che faccio perché comunque sia mi piace condividere i miei viaggi e lo faccio in maniera diretta ma mentre su Instagram lo trovo un po' meno flessibile per i miei gusti perché mi piace l'interazione il parlare il rispondere alle persone che mi chiedono quindi sicuramente le mie pagine Facebook quella personale diciamo il profilo quindi da lì sapremo vedremo quello che hai fatto ma soprattutto vedremo quello che succederà nei prossimi mesi di viaggi cioè non vediamo l'ora di vedere qualche cosa eh sì sì sicuramente quella è un'ottima piattaforma e se Dio mi darà la salute la forza e la voglia insomma dovrei avere già pronto appunto ad agosto Kazakistan e Kyrgyzstan a settembre la Groenlandia ad ottobre starei provando la Namibia se mi riesci a inserirla fine ottobre gli orsi polari in Canada e poi novembre o aurore boreali specchiate in Finlandia oppure un viaggetto appunto in Iranjaya o West Papua queste sarebbero un po' ragazzi quindi se volete fare dei viaggi veri registratevi la newsletter di Luca e aspettate che ci sia uno spazio libero dei suoi gruppi perché perché alcuni sono solo viaggi unici pensa che gli orsi polari sono già pieni quest'anno e anche il prossimo anno li ho già pienati per vedere non per l'inverno devo già aspettare tre anni per venire con te a vedere gli orsi polari che basta esatto vabbè un posticino magari per te riesco a trovarti se mi prometti la scuola di videomaking perché quella che fai online sicuramente a chi mi chiede mi stanno chiedendo in molti ma dove si impara l'arte del del mestiere del videomaker o del filmmaker che dir si voglia comunque suggerisco a tutti quello che per me reputo comunque il più creativo il migliore in Italia e sei tu e questo lo dico grazie Luca e fra quelli che conosco ce ne saranno i più bravi di te forse sì forse no fra quelli che conosco e ne conosco molti però sicuramente tu sei quello che insomma uno che ha firmato 250 documentari per chi li mangiaro penso che insomma non sia proprio l'ultimo dei Moicani ecco mi viene da lì grazie e quindi una scuola di videomaking stile la mia di fotografia secondo me sarebbe molto utile perché online si impara tanto ma sul campo si impara molto ma molto si impara sporcandosi le mani tu ce l'hai insegnato in queste questi 45 minuti ti lascio al tuo nipotino che arriva tra pochissimo senti grazie Luca del tempo della chiacchierata io e te ci vediamo di sicuro prossimamente ci sentiremo probabilmente già in settimana per parlare di qualche idea e qualche nuova idea qualche nuovo progetto volentissimo però ti ringrazio molto da parte di tutta la community che sta intorno alla Travel Things Court per aver condiviso questa tua esperienza molto molto importante e interessante mi fa piacere a me invece per lo spazio che mi hai dato perché insomma è una chiacchierata di 50 minuti insomma mi sembra sia venuta molto 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 se iniziassimo a parlare di viaggi ne parleremo per 500 miliardi di giorni e ecco un'altra cosa che vorrei aggiungermi eventualmente adesso ho lanciato anche una scuola di droni cioè insegno a volare il drone in realtà italiana ho debuttato con San Gimignano volando sulle torri di San Gimignano in piena regola in piena regola con un drone da 249 grammi adesso lo farò su Certaldo e poi faremo anche altre zone quindi per chi non ha voglia tempo soldi o interesse per girare il mondo vuole stare in Italia e vuole imparare a volare il drone e fare delle riprese ho lanciato da un paio di mesi questa scuola insieme a Bignet che è un nome conosciuto nel settore idea bellissima ho visto c'è dei bellissimi gruppi San Gimignano poi si presta in un modo bellissimo quindi ecco questo ci viene a dirla in chiusura di trasmissione di puntata hai fatto benissimo grazie ancora per lo spazio e per il tempo caro Ludovico grazie a te e un arrivederci e un saluto a tutti i nostri ascoltatori che insomma speriamo siano stati molti e che non abbiamo soprattutto annoiato ciao Luca grazie mille presto a te ciao Ludovico